Eeeeeee what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo episodio su Supermarket Simulator Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le hack è assolutamente fondamentale Per cui se volete un nuovo episodio su questo simulator ragazzi mi raccomando vediamo di riuscire a raggiungere e superare almeno i 50 like Per cui il destino di questa serie mi raccomando ragazzi è nelle vostre mani Per cui eccoci qua di ritorno signori e signori dopo che la volta scorsa la situazione sia un pochettino stabilizzata Ho comprato un'espansione chiamiamola così per il nostro piccolissimo supermercato per cui lo spazio a nostra disposizione è un pochettino di più Il problema è che non riesco ad accumulare abbastanza cash per riuscire a comprare una nuova licenza ragazzi per avere nuovi incredibili prodotti Questa cosa mi manda ai pazzi perché spesa di qua spesa di là Pollette affitto e restocca la roba e rimetti la roba e ricompralo Ragazzi in un modo o nell'altro non riesco mai ad avere abbastanza cash appunto per fare queste migliorie Anche perché se comprassi nuovi prodotti avrei bisogno anche di più scaffali E quindi altro cash Come cavolo faccio ad uscire da questa situazione di merda? Per cui eccoci qua nel nostro piccolo incredibili regno La volta scorsa ho ben pensato ragazzi di assumere una nuova incredibile strategia Cioè quella di avere quanti più prodotti possibile in magazzino per restoccare più possibile appunto i prodotti E fare in modo che la gente non si lamenti di non trovare le cose nel nostro negozio E infatti come possiamo ben vedere ragazzi mi è rimasto un pochettino di roba buttata lì E tra l'altro una scorta incredibile di olio di semi Perché l'olio di semi ovviamente non può mai Ma tipo mai Ma tipo mai mancare nel nostro supermarket Quindi adesso io direi di guardare un attimino la situation Prima di tutto ragazzi togliamoci già il pensiero Paghiamo già l'affitto Paghiamo già la fattura E è a posto La licenza costa 400 dollari Ok noi attualmente ne abbiamo 595 ragazzi Non so allora Forse allora devo un attimo vedere prima cosa ho qui Ho abbastanza roba Cosa mi manca Comprare solo quello che mi manca ragazzi E poi mi sa che è arrivato il momento incredibile Pazzesco Folle Di fare questo insano gesto Di comprare intanto la licenza Poi passiamo la giornata E vediamo di accumulare un altro po' di cash E quindi poi comprare anche nuovi prodotti Per far sì che l'espansione incredibile Verso l'Olimpo dei supermercati Abbia davvero inizio Devo ricomprare sicuramente Farena Caffè Perché non li ho qua ragazzi in scorta E su su Non ho neanche più tanta pasta Per cui direi di aggiungerla al carrello ragazzi Per una modica cifra 90 dollari Pasta Pazzati Ovviamente ragazzi Io direi a sto punto Di riempire lo scaffale Basta Cioè E far sì che il negozio Sembri il più pieno possibile Però io ragazzi Continuo a temere Che con questi prodotti Non so se arriveremo a fine giornata E dopo di che la faraina La mettiamo la No No Qua Qua sopra Ecco fatto Pane ragazzi Ormai è andato a male È diventato muffoso Perché non se l'è comprato nessuno Quindi ne abbiamo in quantità Cereali ne abbiamo in quantità Latte ne abbiamo in quantità Acqua ne abbiamo in quantità E olio di semi Eccolo qua Il ripiano è pieno Per cui Ci rimangono 500 dollari Ragazzi Questo Credo proprio Che sarà L'azzardo Di oggi Di comprare Questa Benedetta Licenza Per avere Una caterva Di nuovi prodotti Che ovviamente Attirerà Sempre più polli Qui nel nostro supermarket Quindi Acquista Vai Non voglio guardare Oh Shit ragazzi Ecco qua Ce l'ho fatta Comprato Per cui Adesso Se andiamo nel mercato Abbiamo a disposizione Guardate Che belli Burro d'arachidi Spaghetti Riso Bosmati Olio di oliva E sale Benissimo Però Volevo ridare Uno sguardino I prezzi A posto I cereali Sono a posto Il pane Anche a posto Io abbasserei Un pochettino Le uova Ragazzi Giusto per far vedere Che oggi Facciamo prezzi Incredibili Abbassiamo un po' L'olio di semi Per quanto mi dispiaccia 3,99 Di nuovo scondo Incredibile E il caffè 9 99 Niente Dai Oggi Oggi Prezzacci 4,99 Secondo me Questo attirerà Ancora più gente Per cui facciamo un po' Di ordine Perché così il negozio Fa veramente Cagare La cosa più importante Di oggi L'abbiamo fatta Ragazzi Ci rimangono appena 100 dollari E dobbiamo Sperare Che venga più gente Possibile Per poi ricomprare I prodotti Che ci servono Durante la giornata Per cui Ingruciamo Tutte quante le dita Ragazzi E Apri Lei Lei signora È la prima cliente Della giornata L'avevo vista Ok Oggi Osserverò Attentamente Tutti quanti I miei clienti Buongiorno signora Spesina un po' Eh Un pochettino Me Però Aspettate ragazzi Aspettate Oh Il fatto che io Abbia comprato La licenza Per i prodotti Ma che vuol dire Scusa Come fanno I clienti Se non ho i prodotti Sugli scaffali A sapere Che io potrei Avere quei prodotti Perché si è lamentata Di non aver trovato La farina Io suppongo Che si riferisca A quella Che ho comprato Prima Con la licenza Nuova Ragazzi Oh Cazzo Questo potrebbe essere Un gran bel problema Ma io ragazzi Sono andata tranquillo Ho detto Compro la licenza Poi i prodotti Compro quando posso E scusami Sono pansati E olio di semi Con pasta pansati Ebbè Porca vacca Cominciamo Diosandissimo Ecco qua Il suo resto Vedete ragazzi No Ma questa Oh Ok Bella spesa Ma sai Puppe Cioè questa cosa Io non ho Non la posso accettare Come fa la gente A lamentarsi Di prodotti Che non ho scritto Neanche sugli scaffali Com'è possibile Questo ci porterà A picco Ragazzi Vedete Adesso tutti quanti Si lamentano Di non riuscire A trovare qualcosa Viate pietà Di questo povero Commerciante Che sta cercando Di tirare avanti Non ce la fa La farina Che depression Incredibile Comprate qualcosa Di più Vi prego Olio di semi Sono contenta Per troppo poco Un centesimo Te lo do lo stesso Anche se proprio Da pezzenti Poteva dire Di tenermelo Ma fa niente Ragazzi Questo È Inaspettatissimo Ed è un Colpo al cuore Non pensavo Di fare una cosa Stupida Anzi Scusatemi Che hanno già Finito la farina Ma che è Giornata di farina Ok Stasignora Sta facendo Una bella Spesuccia Boni Che non ha ancora Finito Olio di semi Oh Oh Oddio Oh shit Non ero ancora Pronta Quest'oggi Per spese Del genere Signora Io l'amo Torni Spesso 37 dollari Pensavo Che avesse Speso Un pochettino Di più Invece no Eh che cazzo Eh regà Questo è un guaio Cioè oggi I clienti insoddisfatti Saranno una Caterfa Chiunque si sta lamentando Tutti Tutti Ma come fate A sapere Come fate Come fate A sapere Che ho comprato La licenza Non è che ho messo Un cartello Gigantesco Fuori Che ho detto Ho comprato La nuova licenza Ma non c'ho i prodotti A pezzi De merda Mannaggia Ragazzi E qual è il suo resto E niente Regà Oggi va così Oggi va proprio De merda Ma proprio De merda Direi che Allora Ragazzi A questo punto Intanto devo ricomprare La faraina Perché comunque Non è finita La gente più se lamentata Di farina Ragazzi Normale E farina La ricompro Facciamo questa cosa Adesso Rimettiamo intanto La farina normale Voglio vedere Voglio vedere se adesso Rompete le palle E l'ho messa adesso La farina Inciapelotas Un centesimo Pure te Ma che sta succedendo oggi Quanto olio di semi Signora 17 7 5 Ecco lei E voilà E voilà E voilà E voilà E voilà Funzione Cent La doveva arrivare Debrava strana Non fosse arrivato più Nessuno A Tirarmelo qua Ok Vabbè ragazzi Oggi E oggi Doveva andare così L'imprevedibile È successo L'imprevedibile Mo questa Da dove tenercite Con i spaghetti Gesù Mazza Ma quanta farina Se stanno a comprare oggi Ragazzi È una follia 960 Grazie Buona giornata Farina Oggi va la farina Così A caso Completamente A lei Buona giornata Si sta facendo buio Ma ho visto Pasta pansati 92 Centosimi A lei Ecco Scusate Ascendo la luce Non ci vedo una mazza Ecco qua Perfetto Oh Finalmente qualcuno Che compra la nuova farina Insieme alla pasta pansati Ok 28 dollari Sempre penso che spendano di più Invece il sale Quanto mi fanno Pansati Prezzo giusto Buona giornata Il sale Oh la madonna Tè caffè Tutto questo tè caffè E qual è? Buona giornata Uuuu La spilza delle uova Le uova Le uova Le uova 4 e 52 Buona giornata Che cosa? Olio d'oliva Lo so che l'olio È la parte fondamentale Del supermarket Però Non mi fate sentire Una merda Ok Anche se l'ha fatto Praticamente ragazzi Chiunque Da quando ho aperto Stamattina E non è preso giusto Ecco qua Il riso De tu sorella Ok ragazzi Allora State buoni Ma è finito il formaggio Ma ormai siamo in chiusura Per cui Direi Eccolo là Eccola là Ecco è caffè Siamo in chiusura Uuuu Perché va così tanto Sta farina Più la pasta Pansati Dovrebbe andare Ecco qua Buona giornata Ma perché continuare Di buona giornata Sono i 9 di sera Ok Pasta Pansati Insieme ad altro 25 67 Ecco qua L'ultima spesa della giornata Buona serata signora Arrivedorci Allora Oggi i clienti insoddisfatti Ragazzi Potrebbero riempire Uno stadio Praticamente Le fatture di oggi Già le avevo pagate Direi di finire La giornata E vedere Oggi Che cosa è successo Ok Ecco qua ragazzi Allora Questa incredibile Trovate di comprare Licenza prodotto Ha creato Un bel casino Un bel casino Perché sono entrati 29 clienti Quindi oggi è entrato Un po' più di gente In effetti Forse perché ho comprato Sta licenza nuova Però 18 Si sono lamentati Fatto sta che sono In rosso Però ci sta ragazzi Perché ho pagato appunto 400 dollari Di licenza Ma adesso Allora Si è abbassato il prezzo Di un paio di prodotti Ragazzi È arrivato il momento Di comprare Nuovi prodotti Il problema è che uno Ce li dovrebbe avere tutti Ma ce li dovrebbe avere tutti Quelli nuovi Capite Perché Se no poi la gente Si lamenta Quindi La vedo dura Perché devo riorganizzare Un attimo Gli scaffali ragazzi Sono quanti 6 nuovi prodotti Credo Si 6 nuovi prodotti Quindi devo avere 6 scaffali Liberi Per metterceli ragazzi Ma facendo Facendo un pochettino Più di Realizations Siamo capiti Dovremmo essere In grado Di mettere Tutto Prodotti Le tu sorella Devono essere uguali Accidenti Non posso usare Le scatole Perché Speravo di poterle usare Per spostare i prodotti E invece Ecco qua Ma per uno Mi devo tenere La scatola In mezzo Alle scatole Non lo posso spostare Cioè regà Questa è una grossa Pecca di questo gioco Perché adesso Non posso organizzare Bene i miei scaffali Non posso Però Però fermi tutti Adesso Compriamo la nuova Roba ragazzi Burro di arachidi Olio di oliva Spaghetti Rizbozmat Sal E la nuova Farina Ok 185 dollari Di investimento Con i nuovi prodotti Così la gente Impara a starsi zitta Per cui Oh ma sono castrata What the fuck Ok E' un Wow Ma guardate che carini Questi spaghetti Li mettiamo qua Vicino all'altra farina Dopodiché abbiamo Anche il sale Lo mettiamo Qua Vicino al pane Così A caso Ah non posso E non posso spostare Sti duttoccoli De pane Vabbè Intanto lo mettiamo Qua sotto Ragazzi Ma quanto è carino Il risbozmari Lo mettiamo Qua sotto Wow Con la sua scatolina Azzurra Ma quanto è carino Nel frattempo Ragazzi Qua abbiamo L'olio di oliva Cioè Non so se Questo upgrade È stato Incredibile Ragazzi Ecco qua Oh ma che bella La bottiglia Quanto sono belli I nuovi prodotti Ragazzi Mi luccicano Gli occhi Sono troppo contenta Il burro Da rachidi Allora Considerando che Un paio di prodotti Vecchi stanno occupando Due scaffali C'è spazio Per tutto E questa è una bellissima notizia Il burro Da rachidi Lo mettiamo qua Oggi Sono troppo felice Devo ricomprare Il caffè E devo ricomprare Il Fomaggio Per fortuna Ragazzi Che fra i nuovi prodotti Non c'erano prodotti Da frigo Perché se no Quello avrebbe potuto essere Più un problema Effettivamente Quindi uova A go go Oh yeah Caffè qua sotto Vai E ultimo Ma non meno importante Il formaggio Che sta di piedi La nostra specialità Ragazzi Ecco fatto Allora Ah no Mi manca la farina Mi serve farina E pasta pansatidi Direi che per iniziare La giornata 250 dollari Non sono male Ok Non sono tanto male Ok Scatola vuota Oh La posso usare Per il pane Ma questo si che è bello Ecco qua Oh Così facciamo tutto Un ripiano E farina Eccola qua Non ho più olio di semi Ma certo che ce l'ho Come potrebbe mancare Per uno Direi Che abbiamo Tutto Vero Cosa Assolutamente Importante I prezzi Non facciamo la stessa Boiata Che ho fatto l'altra volta Col Col caffè Spaghetti Ragazzi Cioè Cioè Ma di che fatta sta pasta Prezzo di mercato 6,62 Cioè io posso tranquillamente Vendere un pacco di pasta A 5,99 Non so se Il sale Il sale 1,99 Riso Ammazza 6,91 Posso venderlo A 6,50 Facciamo 6,20 Prezzo di mercato Dell'olio Ragazzi È calato Purtroppo Peralmeno Quello di semi Mi direi di metterlo A 2,99 Olio D'oliva Prezzo di mercato 5,68 Costa di più Di quello di semi Mi sa che mi piacerà Di più Direi di fare 5,20 Burro d'arachidi Ammazza Ho pure questo 5,40 Facciamo 4,99 Ok ragazzi Ho ricontrollato Tutti i prezzi Per cui Non ci possono essere Errori Inizia una nuova Giornata Ragazzi Per il nostro Incredibile Supermarket Con una nuova Linea Di incredibili Prodotti Di prima qualità A prezzi Pazzeschi Apriamo il negozio Ragazzi E vediamo oggi Come va Poi ovviamente Dovrò fare un attimo D'attenzione E comprare Alla svelta Durante la giornata Quello che vedo Che sta per finire Perché non posso Fare la scorta Incredibile Adesso Perché sarebbe Un salasso Forza Oggi troverete Qua in negozio Tutti i prodotti Che non avete trovato Ieri Lei signore La vedo Mi è passato attraverso Sono un fantasma Entra e mi compra L'olio di semi Cioè Ragazzi Questo è un sogno Che sia vera Buongiorno Ha trovato Il burro d'arachidi Signore Accente E qual è il resto Buona giornata Le sono piaciute Spogare Spogare Ecco a lei Buona giornata Nessun nuovo prodotto Non le piacciono I nostri nuovi prodotti Signore Torni da noi Solo caffè Solo caffè Un centesimo Buona giornata Sono tesa ragazzi S'ha comprato La prima confezione Di riso basmati Il prezzo giusto Buona giornata Signore I spaghetti vanno Prezzo giusto Salve Per ora Sembrerebbe esserci ancora Roba Quindi non c'è la furia La farina sta per finire di nuovo Ma che c'è fate Con sta farina Non siamo in tempo di covid Che tutti quanti facevano Il pane e le focacce Prezzo giusto però Buona giornata Oh la madonna Il mio cuore potrebbe non reggere Ha preso due bottiglie Di olio di oliva Adoro 40 dollari 97 Solo acqua E poi vengono questi Qua Li odio E la madonna Ecco un altro Ecco qua Buona giornata a lei Provili spogliare Signori Alta qualità Olio di semi La mia gioia E la mia gioia 12 e 96 Ecco lei Ecco lei Bella spesozza Grazie signore 35 Prezzo giusto Buona giornata Voglio di semi Adoro 22 e 95 Lei Devo ricomprare La farina Ragazzi Ecco qua Ricompriamo la farina Ragazzi Prima che sia troppo tardi Prima che qualcuno Si lamenti Di non aver trovato La farina Non è che c'è a vivo No Beh non fa niente In ogni caso L'importante È sempre restoccare Sicuro c'è a vivo Lo sapevo Ecco qua Pansati e spogliari È a prezzo giusto È sempre Un'emozione Vedere Queste spese Così belle 44 dollari E 92 Ecco qua Adoro 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 Yeah 37 98 Sta per finire Altra roba Non me ne sto accorgendo E potrebbe essere Un problema Quanto ma Oh raga 56 Dollari E 95 Che bello Solo si si Ok Ah cazzo Ho finito gli spaghetti Solo si si Ma che è Sei messi d'accordo Ecco qua E vabbè che ragazzi Oddio no La giornata manca ancora un pochettino Quindi sono finiti gli spaghetti E non so Non ho visto che altro Che altro è finito Aspettate Aspettate Arrivo Arrivo Gli spaghetti Gli spaghetti Più la gente Più la gente diventa Spilorcia 7 dollari Ecco qua Buona giornata Uppanzati E burro d'arachidi Mai pensato di fare pasta con burro di arachidi Formaggio È finito il formaggio Mo questo ragazzi Questo è un problema Viene e mi dà direttive Per gestire il mio negozio Amore mio Eccola qua La cipi In privato È un'imprenditrice È vero amore Ok prezzo giusto Uh quanto olio d'oliva Adoro Oh ma sono entrati tutti i mosoli Le 9 di sera Ma che ci sta Fa caso Però va benissimo Va benissimo Fin quando mi pagate Ancora che entra gente Basta No anzi Non basta No basta no Ragazzi Ecco Se entrate solo per comprare 1 euro e 99 di sale Statevi a casa 10 e 87 Ecco fatto A posto È tutto 10 e 38 Ok ragazzi Allora Devo dire Che oggi La giornata sembrerebbe essere andata Bene Prima di fare qualsiasi cosa Paghiamo le fatture E paghiamo l'affitto ovviamente Ma per quanto riguarda La banca Mancano ancora 18 giorni Porca miseria Si può pagare in anticipo Ma non ho abbastanza dindi per farlo Restoccaggio domattina ragazzi Terminiamo la giornata E vediamo com'è andata 30 clienti ragazzi Sembra che la clientela Mano a mano stia aumentando Quest'oggi Solo due persone Non soddisfatte Perché non hanno trovato Un paio di prodotti Un profitto totale Di 262 Dollari Adoro Prezzi nel mercato cambiati Riso Tè nero E caffè Aumenta Il tè Non il tè Riso Caffè Che ho detto Minchia già mi sono scordata Comunque possiamo mettere Il caffè La bellezza Di 10 10 e 60 Ecco fatto Caffè Tè E riso Non mi ricordo Vabbè fatto sta che il caffè ragazzi È un po' aumentato Direi di metterlo a 5 e 20 E il riso Che l'ho finito Vabbè comunque allora Prima di tutto Quasi quasi A me mi sta venendo Altra pazzia In testa Di comprare Un altro scaffale Ragazzi E l'investimento Non è neanche Troppo esagerato Perché non costano Troppissimo Mi piacerebbe Da morire ragazzi Questo scaffale Angolare Perché significherebbe Metterlo magari In questo angolo qua Poi sistemare Il resto di conseguenza Per cui facciamolo Ragazzi Basta Prima di comprare Lo scaffale ragazzi Intanto rimettiamo La roba che già Abbiamo qua Che c'è Mi miagola in faccia Ragazzi Come sempre Il preputenz Liberiamo prima L'angolo Ragazzino Dai prodotti Che abbiamo già Così poi ci regoliamo Per quello che dovremo comprare Ok ragazzi Allora Ho rimesso tutto Quello che c'era da rimettere E devo ricomprare Un po' di roba Pane Sale Riso Tè Caffè Acqua Formaggio E la madonna Mettiamo questa Di roba Poi ci regoliamo Il ris basmati Era per qua sotto Ok Tè Restocchiamo Il tè Per due non ci entra Che strapalle Ragazzi mi sa Mi conviene Ricomprare Assolutamente Anche olio di oliva Ah cazzo Il caffè Eppure mi è finito Caffè Olio di oliva Sale Uova Ecco il mio olio d'oliva Il mio tessaro Wow Che bella Catastra De me Allora Per quanto riguarda Restocking Ragazzi Dovremmo esserci Direi Di fare Questa folia Di mettere Intanto Quest'altra Acqua Qua sotto Visto che Comunque Per ora Non ho altri Prodotti Da frigo Da metterci Comprare Adesso Perché Adesso Lo posso fare Questo Scaffale Ragazzi Questo Scaffale Angolare Che secondo me Gli darà Proprio un tono De De cosa Bellissima 210 Dollari Ma ci rifaremo Ragazzi In giornata E adesso Prima di raccoglierlo Direi di spostare Già I nostri Scaffali Io direi che Il frigo Ragazzi Lo metterò In mezzo Aspettate Però Intanto Sposto il frigo Dall'angolo Vediamo quanto è grande Questo scaffale Oddio Che bello Continuiamo a rinnovare Ragazzi Guardate 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 Com'è bello Com'è bello Fa proprio un'altra figura Ragazzi Per me che va bene così Si rispostiamo ovviamente Il frigo un pochettino Più di qua Ecco qua Che dite Mi piace Mi piace ragazzi Mi piace Dovrei riorganizzare le cose Un pochettino meglio Ragazzi Tipo mettere la farina Vicino alla farina La pasta Vicino alla pasta Cioè così Magari Uno si rende prima Conto di quello Che sta per finire Che dite Ok allora Mettiamo questa farina Qua Niente Non posso organizzare Un cazzo Ragazzi Perché non ho Le scatole giuste Per spostare I miei prodotti Ditemi voi Se è normale Facciamo così ragazzi Rilasciamo le cose Come stavano Quello scaffale Poi andremo Riempendolo Piano piano Mano a mano Che avrò Le scatole giuste Per metterci Rientra La roba Ok Quindi è arrivato il momento Di aprire Di nuovo Via Di nuovo Buongiorno Signori e signori Lei stava aspettando Dietro alla porta Praticamente Che aprissi Vero signora È vero Eh signore Spesa Spesa stamattina Lei sì Vestito viola Atteggiamento Sicuro di sé Lei sì È indirizzata Qui dentro Ragazzi Già me la sto vedendo Già me la sto vedendo Eccola qua Buongiorno signora Non faccia caso Agli spazi vuoti Perché molto presto Quegli spazi saranno Riempiti Il negozio è ancora In allestimento Buongiorno Ecco lei Anche a lei Buona giornata Olio di semi E formaggio di piedi Cioè Meglio di questo Si muore 15 e 98 Pasta pansati Olio di semi Vedi Quanto olio di semi Ho comprato Non li sopporto Quelli che entrano Comprano solo una cosa Non li sopporto Pasta pansati Olio di semi La coppiata vincente 20 e 37 Teniamo d'occhio i prodotti Ragazzi Perché non voglio Che nessuno si lamenti Ammappete Tutti con le migliori Intenzioni E olio di oliva Buona giornata Anche a lei Uh Pansati Olio di oliva E formaggio Anche quella potrebbe essere Una bella Eh Come si dice Non mi viene il termine Ecco qua Buona giornata Eh vedi Vedi Questo si fa Il classico Spaghetto Aglio E olio 11 e 19 Buona giornata Uii Ma che bella spesuccia Signore 33 e 06 Forza Forza Che i nostri guadagni Aumentano Il mio cash 29 e 36 Ecco a lei Buona giornata Allora Come la situa Farina quasi finita Intanto Suotiamo Ste scatole Che sono Mezze vuote Olio di oliva Ecco qua Un attimo Eh un attimo Arrivo Ok Solo Su su Nient'altro Per accompagnare Su su Quando giro Un salone Per il negozio Ragazzi Significa che Stanno prendendo Tanti prodotti Mi ha finito L'olio di semi Questo è gravissimo Mi scusi Arrivo Ma non posso Aspettare Posso Non avere L'olio di semi L'olio di semi Non può mai mancare In questo maledetto Negozio Cosa Sta a fare la fila Ragazzi Mi sa che è presto In un modo o nell'altro Dovremmo assumere Un cassiere Eh si Che spesazza Signora 49 dollari Olio di semi E pasta Ponzate Olio di oliva E sfoghete Ecco qua Le casse sono piene Aaaaa Mo se lamentano Pure di questo Ammappete Ecco qua Farina Ah cazzo E' finita Pure la farina Regà E' un guaio E' un guaio Riuscire a stare Appresso a tutto A cominciare ad essere Difficile Pasta Panzati Con olio Di semi Ok Avanti Avanti Tutta Venite Signori Venite Venite Vengono Signori Vengono Pasta panzati La fare In questo gioco Incredibile Eeeh Ma c'è la coda Io ho finito i miei prodotti Ho finito tutto Ragazzi sono nella merda Vabbè Domani Ragazzi farò un restock Da fare invidia Al Carrefour Dio santo Ho finito il cereale Ho finito tutto C'è la coda Oh cazzo No non vorrei che la gente Poi se ne vada Aspettate Fatemi prima Passare i prodotti In cassa E oggi è andata così Prezzo giusto E lo so Oh 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 Bonnie Ammazza Regà Ammazza Sta andando meglio Di quel che pensassi Adoro Ammazza Quanta gente Quanta roba Mi hanno sudato il negozio Dio santo Non riesco a stare più appresso A niente Ecco Buona giornata Grazie Buona giornata anche a lei Buona serata Quello che cazzo è Ecco qua Uh Quanto olio d'oliva E olio di semi Adoro Quarantasette Settantacinque Buona serata Lo so che non trovate più roba Ragazzi Ma vedete che so da sola Vi mettete un attimo Nei miei panni Per favore Domani Troverete un negozio nuovo Un negozio super organizzato Adesso ragazzi Sì perché Ho comprato anche Lo scaffale nuovo Quindi avrò Molto più spazio Domani farò una spesa Regà Della madonna Ecco qua Bu lo so che non trovate più roba Lo so Lo so Lo so Non c'è bisogno Che continuate a ripetermelo Tra l'altro È orario di chiusura Se vi levaste da cà Sarei più felice No non è vero Non è vero Fin quando mi pagano il cash Io sono felicissima Ecco qua Oh Olio di semi Grazie signora Basta Smettetela di entrare Vi prego Non ho più prodotti I miei scaffali Sono schifosamente vuote Eccolo là Eh Siamo in chiusura Le ho detto Ecco qua Finito Ammappete Ha comprato tutto quello che ha trovato Il signore Cinque centelli Oh Ragazzi Non so se Ci rendiamo conto Della cifra che è scritta Là sopra 994 dollari Dobbiamo vedere Chiudere il negozio Fare il restoccaggio Incredibile domattina Ragazzi Ma vedere In che modo Chiudiamo oggi 34 clienti Purtroppo 12 Sono lamentati Non aver trovato i prodotti Quelli ragazzi Ovviamente sono Quelli che arrivano tardi In serata Non ho fatto in tempo A presto a tutti i clienti In cassa E poi a restoccare la roba Per cui 254 dollari Incredibile ragazzi Di profitto totale Quest'oggi Ma Allora Aumento Prezzo Spaghetti E pasta Pansati Però devo prima Restoccare Tutto ragazzi Auguratemi buona fortuna Allora Adesso che lo posso fare Direi di cominciare A mettere insieme I prodotti che si assomigliano Ragazzi Quindi devo ricomprare Praticamente tutto Io direi di ricomprare tutto Anzi Anzi Aspettate Prima Si pagano le fatture Si paga l'affitto Purtroppo Tutto via Ricompriamo tutto E via Restoc Toca Ok ragazzi allora ho ricomprato tutti veramente tutti i miei prodotti Infatti come potete vedere il mio cash è diminuito drasticamente Ho riorganizzato così lo scaffale angolare ragazzi Ho messo da una parte e dall'altra prodotti che più o meno comunque ci azzeccano gli uni con gli altri Vedete farina e farina, olio e olio, pasta e pasta, caffè, tè Solo che adesso questo scaffale rimane un po' schifosamente vuoto Per cui direi di metterci le altre cose che abbiamo da parte ragazzi Cioè sti cazzi no? E questa è diciamo un pochettino lo scaffale dello scarto Chiamiamolo così Ecco qua ragazzi allora qua ci ho messo praticamente tutte quelle cose che mi erano avanzate nelle scatole Ok che avevamo qua da parte Io direi guardate un po' che lavoretto Allora i prezzi dovrebbero essere sotto controllo Almeno spero qualcosa si era abbassato però non mi ricordo cosa Ok la pasta panzata è aumentata ragazzi Cioè io direi di aumentarlo il prezzo scusate Anche gli spaghetti Oh 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 Gli spaghetti sono aumentati ragazzi 7.81 Facciamo 7.20 Direi visto che abbiamo ancora un pochettino di soldini da parte ragazzi Ricomprare qualcosa e averla già qua in negozio Perché? Perché poi abbiamo visto che succede La gente si accumula in cassa La gente rompe i maroni E dice che si crea la coda in cassa Poi non riesco a stare Oh non riesco a stare appresso a tutto Non riesco a ricomprare i prodotti Poi i prodotti mi finiscono E poi succede il delirio Quali sono i prodotti che ci sono di meno sugli scaffali? Sussu? Spaghetti? Poi direi di ricomprare anche prodotti da frigo Perché quelli non ce ne sono tanti Quindi formaggio Quindi per ora direi di tenere questi da parte Ok ragazzi Allora Mi è arrivato il momento della verità Vedere anche questa nuova giornata Come va Adesso che abbiamo veramente organizzato un po' tutto meglio Riso non ce n'è tantissimo Se devo essere sincera Il cash rientra Perché io sto notando che comunque sta entrando più gente Da quando abbiamo comprato una nuova licenza prodotti ragazzi Quindi via Non prendiamo più tempo Apriamo Apriamo Voglio vedere che succede Buongiorno signori e signori Si rivenghino Si rivenghino Oggi nuova grandissima riapertura Nuova grandissima Cazza fatta Ho messo sotto uno Pansati Direi che le andrebbe a pennello Ah già perché è entrata a comprare solo il pane La dovrei cacciare fuori appena Però buona giornata Oh buonasera No buongiorno Ok Che bella spesuccia Grazie signore Grazie 35 e 49 Anche lei Non male Dai non male Devo dire Preso giusto Ancora meglio L'ho ricomprato pasta pansati Oddio rega Mo' non so neanche che cosa c'ho Non ho pasta pansati Aspettate Viate un attimo le pazienza Meglio avercela Oddio Mo' mi si accumula la gente in cassa Come ieri Non succede il delirio Non vi lamentate per favore Se pagaste tutti quanti con la carta Non dovrei stare tre ore a darvi il resto Anche questo è un disagio Ecco E poi mi pagano con 100 dollari E ora che gli vedo il resto Mi faccio vecchia Vedete Mi sono usciti i capelli bianchi Ecco qua Oh mio dio Che spesa bellissima Grazie Grazie signore Ecco qua Anche a lei Buona giornata 20 e 96 Ecco qua Sono burro da raggi Qui l'orce Wee wee Super spesa 39 e 54 Ecco qua Ecco qua Buongiorno anche a lei Lei ci è tornato eh Si è reso conto di aver fatto una spesa da pezzente prima Ammazza che sono tutte ste uova Oh Ok ecco qua 11 e 19 E che cassa Lei è sorella di quella di prima Du spilorce Ok allora Pasta panzati l'avevo ricomprata Eccola qua Restocchiamo Prima che finisca Vediamo un altro po' ragazzi Uy il riso Dove è il riso Ecco qua Meglio vedete restoccare pian pianino Però Che poi i prodotti Ci siano sempre A disposizione E' finito il burro da raggi Li vedete per esempio Qua che cosa è finito Il pane C'è ancora Oddio regà Mi verrà Mi verrà un attacco del cuore E' finito pure il formaggio Vedete Cominciare a essere difficile Ragazzi Stare appresso A tutti gli scaffali Eh Non è così semplice Va bene Meglio Faccio prima Che mazza Fatto scorta il burro da raggi Per un anno Ecco qua Caffè Pure per rimetterli i prodotti Sugli scaffali Non è semplice ragazzi Cioè uno dovrebbe avere Veramente a disposizione Tutto il mondo Qua dentro il negozio Per poter restoccare Si ecco un attimo Che arrivo Cos'è che sta per finire Oddio Non mi rendo conto Di cosa mi sta per finire La faraina Quanto cazzo costa Sta faraina Ecco un attimo Abbiate pazienza Oddio 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 Mi sa come la gente In cazza Esaurimento nervoso Così Super spesazza Adoro 86 Ecco qua Ecco qua Abbiate Le casse sono piene Non rompete i maroni Sono da sola Ecco qua Sta per fare buio Quanto olio di semi Da un po' che nessuno comprava Il mio olio di semi Prezzo giusto Buona giornata Ecco qua Regà non sto credendo I miei occhi Veramente quest'oggi Prezzo giusto Quanto pane Ecco qua Lei oddio non ci si vede più Sì 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 Prezzo giusto Oddio Buona giornata Mi sta a mettere Mi sta a mettere Regà Mi sta a mettere La furia Veramente Oddio Non so più cosa sta finendo Cosa no Non ho visto Non ho guardato più Gli scaffali Sono quasi finiti Cereali Cereali Vabbè che ormai siamo In dirittura di arrivo Però Poi la gente Rompe i maroni Anche perché poi Mi entrano fino alle 10 In negozio Ecco qua Ci siamo signore Mi scusi per l'attesa Ecco qua Solo te 5 e 20 Ecco qua 20 e 36 Ragazzi signori Ormai siamo quasi in chiusura Non affollatevi Non affollatevi Ok Oggi mi sembra ragazzi Che non si sia lamentato nessuno Per la mancanza di prodotti Olio d'oliva Quindi dovrebbe essere La strada giusta Il problema È che poi Quando si fa la resta Ragazzi qua in cassa Che bella spesa E tu non sai Che cosa te sta a finire Che cosa no Non sai Non hai tempo Per rimettere la roba Agli scaffali Mi sa Che presto Veramente Bisogna vedere Ragazzi Poi sono curiosa Di andare a vedere Se si può assumere Un cassiere Avevamo visto Fatta la spesa Per un reggimento Quanto olio d'olivo E quanto pane 46 e 16 46 e 16 Buona giornata Buona serata Ok Ce l'abbiamo fatta ragazzi Anche la giornata di oggi L'abbiamo finita E direi che è andata bene Allora Fatture Non c'è niente da pagare Però vedete Abbiamo raggiunto il livello Negozio 10 Quindi Adesso Ci viene data la possibilità Di assumere un cassiere Quindi questo farebbe sì Che ci fosse ragazzi La cassa automatizzata Quindi io potrei Dedicarmi Solo ed unicamente A ricomprare i prodotti E a restoccare la roba E questa cosa Non è tanto male Come idea Quindi Per assumerlo Bisogna pagare 100 dollari E Salario giornaliero Di 80 dollari Non so Guardiamo prima Com'è andata questa giornata Ragazzi Vediamo un po' 35 clienti E 35 clienti Soddisfatti Ok Oggi siamo in positivo Di soli 33 dollari Ragazzi Ma perché Perché ovviamente Ho comprato lo scaffale Ho comprato un botto di roba Comunque siamo in positivo Il che direi È positivo Bottiglia e sale Prezzo aumentato Fatemeli cambiare adesso Di lasciarlo così Due bla E aumentare A 2 30 Il prezzo del sale Quindi ragazzi Allora Ovviamente Per oggi Ci fermiamo qui Ma io voglio Assolutamente Sapere ragazzi Il vostro parere Che faccio Lo assumo Il cassiere Non lo assumo Forse ancora un po' Troppo presto Per fare questo passo Non lo so Perché Tra l'altro Sono disponibili Già Due nuove licenze Prodotto Però questo Significherebbe Dover comprare Nuovi scaffali Forse Ingrandire Tra l'altro Il negozio E quindi Non è uno scherzo Non è uno scherzo Sarebbe un investimento De Quindi dovremmo Continuare Secondo me Con questi prodotti E questa grandezza Ancora per un po' Ma nel frattempo Comunque assumere Un cassiere Forse Però Voglio un vostro consiglio Perché non so Forse è una cosa Un po' troppo presto Da fare Ragazzi Fatto sta che Crea Il delirio Perché più clienti Entrano Più clienti Si accumulano in cassa Poi non vorrei Che la gente Se ne vada ragazzi Intanto che mi finiscono I prodotti Voglio restoccare Cioè Secondo me È una scelta saggia Però ovviamente Voglio il vostro parere Per cui ragazzi Vi ricordo ovviamente Che il prossimo episodio Dipende da voi Di nuovo ragazzi Vi invito a lasciare Un bel pollice in su Se raggiungiamo E superiamo 50 like Ovviamente Ci sarà un prossimo episodio Su Supermarket Simuleta Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Mi obdocio a tutti ragazzi Da Giocherina Ciao